Non è senza Cristo la teologia insegna che la presenza di Cristo oggi, Cristo ci è contemporaneo nei sacramenti ovviamente e nel povero. Su quel crocifisso c'è il Cristo, quel giubbotto salvagente ne segna totalmente la presenza. Ma mi ha colpito molto questa parola del Papa quando ha detto il crocifisso è trasparente perché bisogna guardare attentamente, guardare attraverso, un invito quasi a guardare più lontano. Guardare più lontano non per distrarsi, per non vedere il povero che è Cristo su quel crocifisso o per non fare niente, ma guardare attraverso perché questa realtà, la realtà dell'ingiustizia che produce così tanto dolore e così tanta sofferenza è una realtà molto più complessa e se gesti concreti sono un segnale, un appello, sono una direzione indicata con chiarezza e sono importanti, bisogna che troviamo anche parole, idee, prospettive, soluzioni politiche, capacità di riflessione, di dialogo, di cooperazione per costruire una realtà in grado di non produrre più queste situazioni.